Bentornati in un nuovo Tessilan News. Bijoux, collane, anelli, bracciali, insomma tutto ciò che è luccichio e gioielli. Avete mai pensato di crearli all'uncinetto o fai da te? Con Illumina sarà un gioco da ragazzi. Iniziamo scoprendo tutte le colorazioni di Illumina 6 disponibili. Iniziamo scoprendo tutte le colorazioni. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.